bentornati a tutti nei video precedenti abbiamo visto come è possibile acquisire l'energia fisica una volta che abbiamo acquisito l'energia fisica dobbiamo pensare anche all'energia spirituale veramente bisognerebbe pensare prima all'energia spirituale e poi a quella fisica questa energia preziosa risiede nascosta dentro ogni essere umano il corpo fisico è sempre affannato confuso e agitato eliminando questi affanni possiamo concepire l'anima la mente d'altro canto è irriqueta e ci mente sempre per natura la giornata di ognuno di noi si riempie di sensazioni pensieri preoccupazioni ed ansietà noi tutti presi da mille impegni nella giornata ed incapaci di controllare la mente finiamo per soffrire di molti disturbi particolarmente da quelli cardiaci se noi facciamo delle inspirazioni profonde e tratteniamo il respiro per qualche momento il battito cardiaco cambia rallentando pensate a quando viviamo delle emozioni positive innamoramenti miglioramenti lavorativi apprezzamenti nascite dei figli eccetera ed anche quando ci troviamo a vivere emozioni negative paura delusioni abbandoni stress ed altro il nostro cuore batte di sicuro più veloce questo fenomeno invece è molto naturale durante il sonno i battiti cardiaci ed i respiri rallentano perciò se inspirate e trattenete il respiro per qualche attimo il battito cardiaco rallenta se praticate ciò tutti i giorni con consapevolezza anche il vostro cuore si rafforza la sera quando state per andare a letto fate delle respirazioni profonde per calmare la mente depurandola da tutti gli affanni della giornata se sentite rabbia verso una situazione o verso una persona riportate questa sensazione nella vostra mente e sforzatevi di provare il perdono dovete provare perdono capendo che siamo stati noi stessi ad attirare quella situazione o incomprensione infatti il perdono risana il corpo e la mente sono la dottoressa meri arrivederci